Un finale di seduta piuttosto convulso, quello del Consiglio Comunale di Arezzo, e come era prevedibile è stata la pratica di Quarata ad agitare gli animi e alla fine tutti a casa per mancanza del numero legale. Parliamo del piano di recupero ambientale nel triangolo delle cave. In cambio della bonifica di 59.000 m2 che sarebbero riportati ad uso agricolo, l'azienda che ha sempre effettuato attività estrattiva in questa zona chiede un'altra escavazione di 5.000 m2. Un fazzoletto di terreno per alcuni che risolverebbe comunque dei grossi problemi, un altro segnale negativo da parte dell'amministrazione comunale per molti altri. Il numero legale non poteva essere garantito dalla maggioranza per l'assenza della consigliera del PD, Marzia Fontana. Dopo la presentazione al Consiglio da parte dell'assessore Stefano Gasperini e dopo un lungo dibattito si è andati alla votazione sulla richiesta di sospensiva presentata dal consigliere 5 Stelle Daniele Farsetti, non prima però di una riunione del gruppo del PD chiesta dal capogruppo Matteo Braccialli. Sì, sì, no. Visto che allora, proprio perché il fatto è in votazione, non è in votazione della richiesta di sospensiva, io chiedo la sospensione della sospensiva, quindi 5 minuti di pausa per poter interloquire con il gruppo rispetto a questo gruppo. Durante la pausa ha abbandonato l'aula anche il consigliere del PD Rodolfo Rossi. Il voto dell'aula ha poi respinto la richiesta di sospensiva con 13 voti a favore, tra cui quello di Alessandro Ghinelli, Roberto Barone e Luigi Scatizzi, e 15 contrari. La pratica è tornata all'esame dell'assise ed è stato a questo punto che Daniele Farsetti ha chiesto la verifica del numero legale. La maggioranza disponeva di 15 consiglieri, alla doppia verifica di Luciano Ralli non si è raggiunto il quorum. Noi abbiamo chiesto che su questo tema si faccia un dibattito più ampio in città, perché Quarata ha tutta una serie di emergenze, di problematiche, anche di carattere sanitario. L'indagine della magistratura e il sequestro di alcuni lotti di terreno non sono, penso, mistero per nessuno. Viceversa la maggioranza, che poi maggioranza non è, perché questo è un altro dei dati che gli aritini devono capire, è che purtroppo questa città non è condotta per mancanza dei numeri. Quando l'opposizione su qualsiasi tema ritiene, deve fare un'opposizione veramente determinata, questa città sostanzialmente non ha maggioranza e anche questo sarebbe un tema che il Partito Democratico dovrebbe fare in maniera seria e decisa. La pratica naturalmente ha una valenza che l'opposizione ha reso, come dire, molto più ampia rispetto a quella che poi è, perché si sta parlando di una cosa molto limitata e non esiste il partito dell'inquinamento e il partito della bonifica. I lavori di fatto vanno in parallelo e sono cose naturali. La pratica chiaramente ha dei risvolti complessi proprio per questo motivo qui, quindi stamattina l'opposizione, noi siamo in 15, ci vuole 16 persone perché il Consiglio sia valido, quindi stamattina dobbiamo rinviare la discussione al prossimo Consiglio che sarà tra pochi giorni. È naturale che poi non tutti i provvedimenti, il nostro è un partito molto grande, quindi non tutti i provvedimenti possono essere digeriti allo stesso modo, quindi il consigliere Rossi ha ritenuto di esprimere alcune perplessità. Io credo che però mettere insieme queste cose renda più semplice per chi vuole, come dire, fermare il processo, formare qualunque tipo di processo, sia strumentalizzarlo, io credo che non sia, non vada nella direzione giusta. Non te la faccio la battuta, ma te la faccio, ti senti un po' irrenzi a retino, perché alla fine dai, stai cercando veramente di tirare le giacche a destra e a manca, comunque poi per portare a casa un risultato, questo è il discorso, no? Su ogni tema c'è sempre qualcuno che può dare un contributo per migliorarlo, si prova a dare quel contributo, anche se, come dire, la situazione, la crisi che stiamo vivendo rende tutto molto più complesso perché le strade sono sempre più strette. Prima, quando si poteva scegliere dove investire, si poteva, come aveva più possibilità, adesso, come dire, si cerca le soluzioni a low cost che sono sempre più complicate.